Ed ieri la notizia della consegna al Comune di Laureana Cilento del decreto di concessione individuale dell'aiuto PSR Campagna 2014-2020, progetto collettivo di sviluppo rurale misura 7, tipologia di intervento 7.6.1, riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale, intervento B1, recupero dei borghi rurali, progetto integrato pubblico privato destinato al Comune di Laureana Cilento, che prevede la concessione di un milione di euro per la riqualificazione del borgo storico di Laureana, con il restyling di 52 facciate di edifici privati, nonché l'implementazione di nuove attività turistico-ricettive. Il borgo di Laureana Capoluogo è uno dei più antichi della zona che meglio ha conservato la pianta originaria. Molto soddisfatto, il sindaco Angelo Serra, il quale ha dichiarato, posso affermare con grande soddisfazione che Laureana è uno dei comuni in cima alla lista del comprensorio per numero di progetti che è riuscito ad avere approvati e finanziati. Oggi considerata l'esiguità di risorse a disposizione degli enti pubblici, la capacità di reperire fondi per la realizzazione di grandi progetti senza gravare sulle tasche dei cittadini diviene fondamentale per lo sviluppo e la crescita territoriale, che può avvenire solo attraverso una riuscita sinergia tra pubblico e privato, come questa misura regionale permette. Voglio ringraziare, continua Angelo Serra, l'eccellente squadra di tecnici che hanno operato per questo progetto e i tanti altri finanziati. Basti citare quelli attualmente in appalto, misura 7.4.1, investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale con cui è stato finanziato un centro anziani e la strada Castiglione, Acquasanta, delibera Cipe 54 2016 e tutta l'amministrazione comunale che ha sempre cooperato in sinergia e spirito di unione per realizzare interventi dedicati a questa bellissima comunità.